Siamo a presentarvi l'intervento di restauro dei seramenti a Palazzo della Ragione. Palazzo della Ragione è tra gli immobili storici più significativi di Milano, più rappresentativi. L'edificio è sorto a partire dal 1228. I seramenti si trovano a livello del sopralzo teresiano che è stato costruito nel 1773. I seramenti sono lignei, sono in larice e l'intervento è stato un intervento di restauro conservativo, volto quindi al mantenimento di tutti i 18 seramenti. I lavori sono iniziati a gennaio del 2019 e si sono conclusi ad agosto di quest'anno. Il costo complessivo dell'intervento è stato di poco meno 700 mila euro. L'intervento di restauro conservativo è avvenuto con la supervisione della sovrintendenza. I seramenti hanno avuto il restauro dei telai in sito, mentre per le loro parti interne, dopo un attento rilievo fotografico e una attenta catalogazione, sono stati smontati e portati in laboratorio. Vi invitiamo pertanto a seguirci sulla pagina Facebook del Comune di Milano. Grazie.